Buongiorno, come ha spiegato il presentatore è un tracciato di vita molto particolare ovviamente. Io nasco il 18-12-70 a Montrotondo, un paese della provincia di Roma e praticamente la mia fase di esperienze nel mondo lavorativo, viste le attitudini che io avevo già scoperto in me stesso, inizia già a 18-19 anni nel settore della comunicazione. Tra le altre cose con uno scontro molto importante, nel senso con Obi nelle letture Karl Jasper, del quale poi cito una massima che è tutto ciò che non si può comunicare non esiste nella realtà, che per me è stata un po' la persona che ha ispirato tutto quello che è stato il percorso. Già a 22 anni ero titolare della Spazio Spot, una società che si occupava di spazi pubblicitari esclusivista al centro Italia, per pubblicità, insomma una serie di esperienze vorticose, perché mi resi conto da subito che le attitudini erano importanti, che riuscivo a raggiungere dei traguardi anche seri. L'unica problematica che darà vita a tutta la serie di esperienze consecutive nelle quali mi sono trovato è che non ho avuto un mentore ovviamente e quindi ho spaziato vorticosamente in tutti quei settori della comunicazione e del marketing da autodidatta e quindi con le conseguenze del caso. Niente, iniziai da ghostwriter nel settore cinematografico a fianco ad alcuni personaggi fino ad arrivare alle pubbliche relazioni, a dirigere un gruppo di lavoro, però ovvio che in questo vortice che si viene a creare di esperienze che non hanno, in realtà hai delle ambizioni ma non hai un obiettivo preciso, cioè non riesci ad inquadrare esattamente qual è l'obiettivo da raggiungere. Sì, la missione spinge ad andare avanti, a costruire sempre di più, a creare sempre più situazioni lavorative di crescita, però purtroppo questo problema di non aver avuto una guida fa perdere di vista gli obiettivi. Durante questo vortice di esperienze si vanno a creare anche ovviamente degli errori che lì per lì tu tralasci, perché? Perché ovviamente sei diretto come un treno a raggiungere quelle che sono le tue ambizioni e di conseguenza tralasci, tralasci, costruisci, costruisci e ad un certo punto mi sono trovato nel 2008 quasi all'apice tra l'altro della mia carriera da ghost manager, perché non sono stato un manager da ribalta, da grandi luci, però ero arrivato a dirigere un gruppo di lavoro importante, ad avere dei partners importanti e a un certo punto gli errori che ho accumulato sono venuti a bussare alla porta e inevitabilmente ho dovuto accettare quella che era la realtà. Si era creato un debito con le istituzioni che sono stato costretto e per scelta a pagare ovviamente e sono entrato nel circuito detentivo. Questo è un percorso molto difficile, perché ovviamente si passa da quello che è uno status quo di libertà, di libero movimento, di libero arbitrio a una situazione nella quale ovviamente si deve sottostare a delle regole fondamentali. Però, devo dire, l'esperienza che io ho fatto e come l'ho vissuta, specialmente all'interno della Casa dell'Educativa Santo Spirito qui di Siena, mi ha fatto comprendere delle cose fondamentali. Allora, la prima, che molto probabilmente era arrivato il momento, visto che io non riuscivo, a tirare proprio un freno, perché ormai era bello raggiungere dei risultati, vedere che imprenditori investivano, vedere che le società comunque ti chiamavano, però ovviamente ero così, l'obiettivo era sempre quello che mancava. In questa esperienza di educativa, specialmente all'interno del carcere di Siena, ho potuto, diciamo, proiettare quello che poi è un regime molto difficile, perché ovviamente, ripeto, passare dalla libertà a un'esperienza di questo tipo non è facile. Perché? Perché si sottosta a delle regole importanti che però mi hanno dato il tempo e modo non solo di riflettere, organizzare il mio tempo, riguardare un pochino a ritroso quella che è la mia vita, ma oltre a quello è proprio questa fase di educativa, questo istituto mi ha dato la possibilità di focalizzare gli obiettivi. Perché? Ovviamente mi è stato detto, allora facciamo una cosa, noi collaboriamo con la WIC, Unione Italiana Ciechi, dobbiamo preparare dei cd di letture per questa associazione, tant'è vero che poi ne è uscito uno dei cd che noi abbiamo prodotto, è le fiab di Santo Spirito ed altri racconti, e lì ovviamente che cosa è accaduto? È accaduto che intanto è continuata la comunicazione, cosa fondamentale perché per me oggi essere qui è come un po' ripartire in quella direzione che avevo lasciato, però la cosa fondamentale è che questa fase rieducativa ti mette degli obiettivi davanti, e questa è una cosa molto importante, perché? Perché non c'è più dispendio di energie, perché sai da dove devi partire e dove devi arrivare, che è una cosa fondamentale, perché il disperdio di energie può causare tutto quello che io sto dicendo, tutto quello che purtroppo è capitato a me nella vita, sia nelle fortune che nelle disgrazie, perché non è stata una vita della quale ho rimpianti o rimorsi, anzi, devo dire che il percorso è stato veramente notevole. Poi ovviamente gli errori fatti hanno un prezzo, come si guadagna bisogna anche pagare. In questa fase si sta crescendo, si fanno molte attività all'interno dell'istituto, ci permettono comunque un confronto quotidiano con quello che è il sociale esterno, quindi si vive in maniera molto giusta quello che è il periodo di rieducazione, ma la fortuna mia, spero anche di tanti altri che vivono questa esperienza, di tanti altri probabilmente no, è quella di decidere realmente di tornare a quello che è un percorso sano che porti ovviamente a riprendere la propria vita, i propri affetti, il proprio lavoro, lì da dove si è interrotto. E da una parte, devo dire, l'esperienza a me è servita molto, anche perché nel tracciato precedente comunque sono stato apprezzato da molti imprenditori che hanno capito quello che è avvenuto, da partners internazionali che mi hanno manifestato la loro fiducia con mail, con comunque dei riscontri oggettivi, e che ovviamente mi porterà al momento in cui il mio rinserimento sarà avvenuto pienamente a riprendere il mio percorso, non proprio esattamente da dove l'avevo lasciato, ma comunque a rintraprendere quel percorso che io ritengo fantastico, che è la comunicazione, che è il marketing, che sono stati, quando io ho iniziato la facoltà di scienze della comunicazione di Torino, fu la facoltà con loro che tirarono fuori il futuro di quello che poi oggi viviamo nella comunicazione e poi si trasferì ad Urbino, vabbè la storia la sappiamo insomma, ma la cosa più importante è questa, è che bisogna saper vivere ogni esperienza che la vita ci dà, riuscire a non disperdere le energie, perché il mio è stato quello più che altro il problema, un disperdio di energie non mirato, senza obiettivi, anche se produttivo, ma ha prodotto sia cose buone che cose negative. Giustamente quando ho avuto da prendere i frutti, li ho presi e ne ho goduto, al momento che ho dovuto pagare quegli errori fatti, da uomo ho affrontato questa cosa e li ho pagati. Ringrazio e sono onorato di essere qui al cospetto di tutti voi, di questa grande possibilità che la direzione della CC Santo Spirito mi ha dato, che dire, buona fortuna e Giuseppe Altorango, Roma. Grazie.